Tutto pronto, si aprono le gabbie, partiti i cavalli della seconda corsa. Parte bene Barbaricina, subito intenzionata a prendere una posizione soprattutto, stessa cosa che fa Soul of Race, che si sistema in seconda. In terza troviamo I Am Iron Man in quarta, il favorito I Know Why, superato però al suo esterno dalla giuba gialla di Sgarbina. Dietro a questi troviamo anche World Honor, a completare poi il drappello dei partecipanti, anche la Riru che ha al suo interno Alma Ata e poi Sopran Bohemia e Redimaggio con tutto il gruppo ben compatto. Barbaricina è sempre davanti e si va così ad affrontare la prima parte della curva che è quella di pista piccola, Sgarbina che è ancora in seconda posizione, in terza Soul of Race e poi in quarta posizione favorito I Know Why. In quinta troviamo invece la giuba blu con cap giallo della Riru, alle cui spalle gravita World of Honor, all'interno I Am Iron Man, galoppa in terz'ultima posizione Redimaggio, in penultima posizione Alma Ata e poi Sopran Bohemia. Siamo addirittura ad arrivo con Barbaricina che tenta la carta del lungo anticipo, dal centro della pista si fa presente anche I Know Why che al suo esterno Redimaggio, all'interno c'è anche Soul of Race. 4 cavalli in diagonale quando mancano 400 metri da percorre, I Know Why che sprigiona la prima accelerazione, si porta subito in leggero vantaggio nei confronti Redimaggio che ci prova al suo esterno, Soul of Race che è rimasta sul passo. Ma quando siamo a 150 metri al traguardo, I Know Why sta accelerando e soprattutto sta gestendo perché vince nel più facile dei modi, senza nessun tipo di problema, facile alla meta. I Know Why, secondo posto per Redimaggio al terzo Lariru e questo è l'ordine ufficioso d'arrivo della seconda corsa, ha vinto da favorito I Know Why, un erede da Sipoi che conquista la prima affermazione in carriera al secondo tentativo. Torre sulla sinsella, quota di 1,55 ma direi incoraggiante prestazione, secondo posto per Redimaggio al terzo è finita bene Lariru, quindi 4,95 in ordine d'arrivo provvisorio. Il vincitore è allenato dalla Endo Bottigaloppo per i colori della scuderia Larac, 4 al primo, 6 al secondo, 5 al terzo, 4,65 è l'ordine d'arrivo ufficioso della seconda. Grazie a tutti. Grazie.